Sabato 16 settembre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, ben trovati qui sul canale, è il match day di una sfida importante, quella che si disputerà quest'oggi ore 15 all'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio e in questo contenuto analizziamo la formazione perché c'è la formazione dal mio punto di vista con alcuni valutaggi che sono effettivi rispetto a quella che è stata data ad esempio dall'ottimo Giovanni Albanese che secondo il mio punto di vista potrebbe invece non essere quella che scenderà effettivamente in campo ma sviluppare il contenuto, prima di sviluppare il contenuto insieme mi raccomando l'invito è lo stesso, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella notifiche e mettete un bel like in fondo al contenuto se questo sarà stato di vostro gradimento e direi anche di vostra compagnia soprattutto perché la community sta crescendo, nell'ultimo anno ha avuto una bella espansione, mi fa tremendamente piacere, ovviamente continuate a farlo e continuate a commentare perché attraverso i tanti commenti che leggo sotto i vostri contenuti si ha la possibilità veramente di aprire anche vedute differenti da quelle contemplate sino a quel momento, grazie sempre per il seguito. Veniamo alla formazione, dicevo l'amico Giovanni Albanese ho visto che dà come possibile formazione quella che prevede Gatti in ballottaggio con Alexandro, Danilo e Bremer, Costic a sinistra, McKennie a destra e quindi con l'esclusione di Cambiaso e con il ballottaggio che dal mio punto di vista non è corretto. Ma questa è ovviamente una mia impressione facendo un'analisi approfondita un po' della situazione. Considerato che da come si è esposto Massimiliano Allegri in conferenza stampa prepartita bisogna tenere ovviamente monitorata la situazione dei nazionali, bisogna tenere considerata la situazione dei fusi orari da smaltire perché ci sono giocatori che hanno un jet lag importante, vedi chi è rientrato dagli Stati Uniti, dal Brasile. Ecco io credo che il ballottaggio più che Bremer gatti con Alexandro sia gatti con Danilo. È ovvio, Danilo è il capitano, Danilo è lo staccanovista, Danilo è il giocatore a cui Massimiliano Allegri non rinuncerebbe mai, ma è anche vero che i giocatori hanno un fisico che va anche preservato, bisogna tenere in considerazione gli impegni, gli impegni ravvicinati, i recuperi, soprattutto i recuperi fisici e quindi considerato il volo transoceanico di Danilo e considerato la stima e considerazione scusate la ripetizione di parole che Massimiliano Allegri vanta nei confronti di Alexandro lungi da me, io penso che il ballottaggio possa essere più gatti con Danilo che non gatti con Alexandro e quindi Danilo potrebbe partire inizialmente in panchina. Poi non mi trovo diciamo d'accordo con lo schieramento di McKennie sull'out di destra e Kostic sull'out di sinistra. Intanto perché c'è un giocatore tra quelli disponibili che ha sostenuto tutta la fase di allenamenti nell'arco temporale delle nazionali che è Cambiaso, che è appunto rimasto a disposizione, non ha fuso orari da smaltire, non ha determinati limiti tattici perché Cambiaso differentemente ad esempio di Kostic offre una diciamo vasta schiera di possibilità allenatore e soprattutto si sposa molto meglio con il Chiesa formato 2023-2024 perché Chiesa schierato nella posizione di seconda punta abbiamo visto come Ami partire dall'out di sinistra da largo e partendo da largo da sinistra con Cambiaso che è in grado di giocare entrando dentro al campo e quindi andare ad occupare gli spazi tipici della mezzala, Chiesa riesce a duettare meglio, riesce a rientrare, a scambiare, a fare l'1-2 per andare anche alla conclusione. Con Kostic che è un giocatore monotematico, un giocatore lineare, un giocatore che solca la linea del fallo laterale per mettere la palla nel mezzo, Chiesa andrebbe a cozzare, avrebbe gli spazi a lui diciamo più congeniali occupati e quindi è un binomio che si sposa decisamente peggio. Diciamo che come accoppiata nello sviluppo della fase offensiva bianconera non è un'accoppiata complementare e quindi nonostante non si possa pensare ad un Kostic sistematicamente relegato in panchina avrà anche lui il suo spazio nonostante la mancata partecipazione alle coppie, quindi il minor numero di partite da poter disputare. Io resto però convinto che Cambiaso tra gli esterni a disposizione di Massione Allegri sia quello che debba, a parer mio, avere un posto, perlomeno in questo momento, fatto salvo che non ci siano situazioni fisiche di cui non usciamo a conoscenza, ma non risultano, debba avere un posto tra i titolari. E poi c'è la questione da sviluppare relativamente sempre al discorso del jet lag, del recupero dai fusi orari relativa ai due americani, perché McKennie e UEA sono rientrati giovedì, sono entrambi figli di una trasferta transoceanica, è vero che i fisici rispondono differentemente con il recupero e quindi ci sta che McKennie abbia recuperato più velocemente o possa recuperare più velocemente rispetto a UEA. Però considerato UEA il titolare del ruolo è un McKennie un adattato, anche se secondo Allegri può fare benissimo l'esterno, mi sembrerebbe, nonostante si vociferi, che sia McKennie in vantaggio, alquanto difficile pensare a un McKennie titolare, costice, rinunciare a cambiaso con la problematica che ho esposto prima relativamente a Chiesa. E allora, se McKennie sarà titolare, sono più propenso a pensare che dall'altra parte possa giocare cambiaso, oppure McKennie titolare potrebbe andare ad occupare lo spazio di Mezzala al posto di Fagioli, con Locatelli sempre in cabina di regia e Mezzala a sinistra, ovviamente l'insostituibile Adrian Rabiot. Di dietro Bremer assolutamente titolare, Gatti pare avere una maglia destinata da titolare, ripeto, dal mio punto di vista è molto più probabile che il ballottaggio possa essere con Danilo. Ha recuperato Szczesny che sarà regolarmente tra i pali e quindi la formazione credo che possa discostarsi tra la scelta degli esterni con Kostic cambiaso, UEAM e McKennie a giocarsi i posti. Ribadisco, io non mi priverei mai e poi mai di cambiaso in questo momento. Giocatore che tatticamente è quello che offre maggiori soluzioni, giocatore che è sicuramente intelligente, ha avuto tutto il tempo per preparare la partita con i compagni, rimanendo alla continassa. Sarebbe assurdo pensare di privarsene in una sfida così delicata, che presenta tre elementi tra gli ex, che sono l'allenatore dal dente un po' avvelenato Maurizio Sarri, Rovella che dovrebbe partire dalla panchina ma sta scalando le giarchie e Luca Pellegrini. Per quanto riguarda Maurizio Sarri, voce, fonte, messaggero di ieri, sembra che sia stato proprio l'allenatore bianco celeste a far saltare quella che doveva essere una amichevole di estiva, di precampionato tra Juventus e Lazio, evidentemente ancora brucia, rode il fatto di essere stato sollevato dall'incarico. Lui che resta comunque nell'albo degli allenatori vincenti in casa bianconera perché è l'ultimo che ha portato uno scudetto e di conseguenza si sarebbe aspettato molto probabilmente un trattamento diverso. Lui che peraltro, per detta di Luca Pellegrini, è un allenatore maniacale perché cerca sempre la perfezione e la perfezione sappiamo tutti come sia davvero praticamente impossibile da poter raggiungere. Comunque partita da non perdere ma soprattutto da vincere perché è una partita che credo possa creare davvero uno spartiacque in quella che sarà la stagione della Juventus. Vincendo la sfida contro con lei che tra l'altro la scorsa stagione ti è arrivata davanti, batteresti una dirata concorrente per un piazzamento in Champions, daresti un segnale forte a te stessa ma soprattutto alle avversarie con una Juve che aumentando di autostima può diventare davvero un'insidia per gli altri. Mi raccomando, io come vi ho anticipato per motivi personali non credo assolutamente di poter essere qui nel post partita, magari arriverò più tardi, vediamo se riuscirò per il mio blog lucagramellini.com a scrivere il pezzo perché ho davvero la situazione molto articolata questo pomeriggio ma in ogni caso godiamoci lo spettacolo del match e soprattutto il grande ritorno del tifo allo stadio. Ditemi la vostra, mi raccomando commentate, commentate e ci sentiamo presto fino alla fine. Forza Juve, ciao!